Allora, amici di Green Italy, bentornati sul nostro canale. Dopo una giornata così calda, è il momento migliore, il pomeriggio, per passare un po' di tempo nel nostro orto. Oggi è ancora più bello perché con noi c'è Sara. Ciao ragazzi! Sara l'abbiamo conosciuta nella puntata del Dal Sema alla Piantina, e vi lascio anche il link in descrizione. Abbiamo pensato di unire la mia competenza pratica e la sua competenza invece un po' più tecnica per darvi dei consigli in un certo senso fondati, perché spesso mi sembra di vedere persone che parlano un po' improvvisando anche delle tecniche culturali sbagliate e possono in un certo senso portare anche danni sulle nostre culture. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello di fornire delle informazioni pratiche e tecnico-scientifiche anche, senza naturalmente annoiarvi, e soprattutto per fare in modo che anche i meno esperti abbiano dei risultati importanti. Cioè il risultato che dico io è quello di fare sempre invidia al nostro vicino, che noi abbiamo i pomodori più belli, le cose... Dateci retta, seguiteci, non perdiamo altro tempo. Allora, oggi dobbiamo Sara recuperare tutto il tempo perduto e iniziare a mettere a dimora i pomodori. Con l'occasione parliamo un pochino in generale della tecnica culturale, quindi di eventuale concimazione, sfemminillature, irrigazione, quindi tutto ciò che riguarda la coltivazione del pomodoro. Ottimo! Ragazzi, non perdete questa puntata, ci vediamo dopo la nostra sigla. Ciao! Allora Sara, come prima cosa, visto che per adesso me ne sono occupato io dell'orto, dammi un feedback su questi pomodori, quindi magari verifichiamo lo stato di salute, se c'è da intervenire in qualche modo, dimmi la tua. Ok. Allora, innanzitutto quello che vedo è che la legatura è un po' troppo stretta. Deve essere leggermente più delicata, facendo in modo che la pianta si accosti alla canna, senza però essere strozzata, perché altrimenti potrebbe provocare danni alla pianta. Ok. Molto importante fare attenzione alla legatura, perché se è troppo stretta strozza la pianta. Andiamo subito sul vivo dell'argomento. Parliamo della legatura e dell'impalcatura della pianta del pomodoro. Innanzitutto è la scelta del sesto d'impianto, perché sulla base di quello andremo a scegliere come posizionare le canne per far sviluppare la pianta in modo corretto. In questo caso parliamo di file e binate, che hanno una distanza tra le piante, quindi questa distanza che è circa 50 centimetri. Come la giudichi questa distanza? Ottima, dai 30 ai 50 centimetri andiamo bene. La fila invece abbiamo adottato una distanza di 80 centimetri, quindi va bene. Comunque l'importante è avere una distanza tra le file di 30-50 centimetri e sulla fila di almeno 80 centimetri un metro. molto importante per far sì che le piante abbiano il giusto arieggiamento e quindi evitare poi di conseguenza eventuali formazioni di malattie o fungine o comunque appunto l'insorgenza di patogeni. Vabbè Sara l'ho fatto bene o l'ho fatto male? È stato fatto bene. È stato fatto bene. Allora vediamo invece velocemente l'operazione della scacchiatura, sfemminellatura, cimatura, chiamiamola come vogliamo. Allora innanzitutto Sara è importante diciamolo effettuare questa operazione perché? Allora la femminella è un nuovo germoglio che nasce nella posizione ascellare tra il gambo principale e una foglia di pomodoro. Quindi questo è molto importante scacchiarlo, quindi toglierlo per far sì che la pianta possa andare a distribuire correttamente le sue sostanze nutritive all'interno di tutta la pianta per dare poi un'ottima produzione di pomodori. Un'altra cosa importante mi viene da dire ecco perché poi l'unione fa la forza è che se noi andiamo a effettuare una costante sfemminellatura velocizzeremo quel processo di fruttificazione che in realtà se no sarebbe rallentato perché la pianta dovrebbe dare nutrimento ad ogni singolo pomodoro e quindi anche la velocità con cui poi noi li andiamo a raccogliere è più lenta. È più lenta. Sara la teoria l'abbiamo fatta direi di passare alla pratica prendiamo i nostri pomodori e facciamo vedere come li coltiviamo ok? Allora partiamo con la messa a dimora dei nostri pomodori allora questo è proprio un san marzano alto mi parlavi dell'importanza della sostanza organica di quello ne so qualcosa allora facciamo così Sara da questo momento proveremo un po' di piante con e un po' di piante senza humus di lombrico così avremo modo anche di vedere la differenza. Allora come utilizzare l'humus di lombrico innanzitutto è un concentrato non mi stancherò mai di dirlo quindi ne basta poco ma non perché il troppo può far male perché parliamo di sostanza organica quindi può far solo che bene al suolo che ospiterà le nostre piantine. Allora mettiamo mezzo bicchierino in buchetta in modo tale che le radici troveranno subito l'humus e quindi sostanza organica che permetterà anche di ridurre lo stress del trapianto e ricordiamoci sempre di effettuare quest'operazione quando ormai è più fresco così la pianta avrà diciamo la notte per abituarsi. Quindi mezzo bicchierino in buchetta e poi ne mettiamo un pochino sopra piuttosto semplice. Sara tu che sei un'esperta come si fa a identificare una buona piantina cioè c'è un equilibrio tra l'apparato radicale e l'apparato fogliare che ci deve essere? L'importante è che l'apparato radicale risulti di un colore bianco ciò significa che la radice è giovane è sana e risulta anche equilibrata che dovrebbe essere appunto proporzionato allo sviluppo dell'apparato radicale quindi in questo caso possiamo osservare delle piantine sviluppate in maniera molto corretta Ah abbiamo messo a lavorare Sara. Sara mi racconti quando è nata la tua passione per le piante? Allora la mia passione è nata diciamo quando era ancora adolescente finito il periodo diciamo degli studi delle medie e sono andata a visitare l'agrario, l'Emilio Sereni e da lì ho scoperto la mia passione per la natura, per gli animali, per l'orto e non per i fiori. Per i fiori no ma è stato un crescendo cioè ogni giorno ti piace sempre di più? Certo ogni giorno mi appassiono sempre di più, mi piace molto anche stare a contatto diretto con la natura quindi non essere attenta alla manicure quindi alle unghie ma sporcarmi le mani di terra porta poi diciamo una grande soddisfazione la sera quando torni a casa e dici e vai ho raggiunto il mio obiettivo e poi la felicità che hai quando sei appunto nella natura. Che stiamo mettendo adesso Sara? Allora adesso stiamo mettendo un ciliegino giallo, oltre alle varietà tradizionali quindi tipo un San Marzano rosso, un tondo liscio, abbiamo scelto anche delle varietà utili dal punto di vista salutare in quanto oltre ad avere quelle caratteristiche nutrizionali che hanno tutti i pomodori hanno diciamo delle sostanze in più che sono molto importanti dal punto di vista salutare per noi. In quanto potrebbero aiutare l'organismo a prevenire alcune patologie. Allora Sara tu che ti sei sempre occupata del primo stadio, uno stadio di germinazione, come ti piace l'idea poi di comunque vedere quello che c'è dopo? E' buono, quindi seguire tutto il processo di crescita e il ciclo culturale. Certo, diciamo una soddisfazione soprattutto personale e poi vogliamo mettere la soddisfazione di fare una bruschetta con i pomodori raccolti da poco nell'orto, freschi freschi. Infatti secondo me non apprezzo, sì, questo è vero. Senti Sara, che dici? La vogliamo mettere questa piantina o la vogliamo far seccare? No perché se poi vengono male non dica è colpa mia. Spero che le nostre piantine non si ammalino mai. Quali sono i principali patogeni oppure animaletti che possono andare a infastidire le nostre culture dei pomodori? Allora, innanzitutto con una corretta gestione tecnica del pomodoro riusciamo più o meno a contrastare le eventuali malattie che possono arrivare nel nostro orto. Ad esempio una peronospora, che è un fungo che va ad attaccare sia l'apparato fogliare che eventualmente i frutti e andando a danneggiare appunto sia il raccolto ma anche tutto ciò che è alla base della fotosintesi perché danneggiando la foglia si danneggia anche la produzione delle sostanze necessarie a dare nutrizione ai frutti. Altra cosa molto importante è appunto far sì che la pianta abbia la giusta reazione quindi andando appunto ad eseguire la sfemminalatura oppure la rimozione di parti vegetative abbastanza vecchie quindi defogliare le piante nella parte basale quindi in prossimità del terreno dopo un certo periodo di tempo per permettere appunto l'ingresso di aria e quindi di far asciugare le foglie evitando appunto lo sviluppo di malattie fungine come ad esempio la peronospora. Allora Sara ci dici per favore quando devono essere innaffiate le nostre piantine? C'è un momento migliore della giornata e soprattutto ma quanta acqua dobbiamo dargli alle nostre piante? Le dobbiamo annegare o le dobbiamo far in un certo senso, dobbiamo far venire sete e loro devono andare a cercare le radici? Ragazzi molto importante è annaffiare le piante nelle ore più fresche della giornata quindi o al mattino presto o prima del tramonto per evitare appunto degli stress dovuti a sbalzi termici altra cosa fondamentale è non eccedere con il quantitativo d'acqua per evitare appunto sia che i pomodori che si formeranno e andranno a maturazione saranno insipidi per l'elevato contenuto in acqua piuttosto che delle sostanze necessarie a conferire quel gusto e sapore al pomodoro e soprattutto come ho accennato anche prima evitare squilibri idrici quindi né dare troppa acqua né darne troppo poca la cosa ottimale è quella di apportare l'acqua ogni giorno al nostro orto in quantità giusta in modo tale che il giorno successivo il terreno circostante la pianta risulti più o meno asciutto così da evitare i ristagni idrici che sono poi molto dannosi per la maggior parte delle specie da orto che vengono appunto coltivate allora ragazzi si è fatta una certa come si dice a Roma e qui diciamo anche un po' di appetito che va sanato spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta fatecelo sapere nei commenti se avete dubbi, curiosità, volete approfondire qualcosa chiedete senza problema ok scrivete nei commenti così io o Sara potremo rispondervi se non l'avete già fatto vi consiglio di iscrivervi al canale e magari attivare quella famosa campanellina che vi darà sempre la notifica sull'uscita dei nuovi video perché ce ne saranno tanti ogni settimana saremo qui e ogni settimana ci saranno ci saranno tanti argomenti nuovi e interessanti da poter affrontare insieme allora da Claudio e Sara per questa sera è veramente tutto un caro saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao